Il momento dell'arte Il momento dell'arte Il momento dell'arte Il momento dell'arte È stata una cosa che ho potuto accedere molto semplicemente Ho potuto iniziare questa carriera che è durissima e dura tutta la vita Però io sono all'inizio e spero di continuare sempre con questa mia passione, con questo entusiasmo E sempre si rinnova con queste cose che io faccio di solito all'aperto Ho imparato il maestro Stefanelli a lavorare all'aperto Perché il maestro Stefanelli lavora quasi tutto all'aperto Nelle difficoltà di Venezia, della Versilia, delle colline toscane, delle maremme isolate Delle difficoltà a raggiungere a piedi certi posti, certi paesaggi Però per avere la possibilità di fare qualche cosa che è a noi lontano Di raggiungere, però era un'espressione, una felicità Ecco, doversi immergere in questo paesaggio e dipingere quello che si vede Queste sensazioni che sono dirette direttamente con la natura Falai ha detto, sono 15 anni che lavoro con Stefanelli, sotto la direzione di Stefanelli 15 anni, e sono ancora all'inizio Bene, e noi dobbiamo fare un appunto Ma come? I nostri allievi dell'Accademia sono 4 anni che lavorano alla fine del loro corso E escono fuori artisti E tu 15 anni, Stefanelli, ormai saranno 30 anni probabilmente Perché mi sembra che sia andata a 13 anni da Anigoni Dico, ma voi altri, come vi considerate? Se quelli in 4 anni sono artisti, voi in 15 anni, che cosa siete? Ma anche noi siamo sempre in procinto di arrivare a questo mestiere Che è molto faticoso e molto impegnativo Però si va piano piano assimilando questi pensieri a queste grandi scuole Se pensa che anche il maestro Stefanelli ha fatto la prima mostra importante all'età di 35 anni 36, una cosa di questo genere E che l'ha fatta qui a Firenze la prima mostra Io la prima mostra l'ho fatta 3 o 4 anni fa All'età di 34 anni, 35 Anche noi stessi si aspetta questa maturazione Perché prima di fare certe cose e presentarsi a un vasto pubblico A chi effettivamente deve poi criticarci, deve giudicarci Ebbene che si sia preparati L'impreparazione è una cosa che non va bene Insomma non credo che sia una scusa L'impreparazione non deve esistere Si deve essere pronti delle nostre azioni Chi lo fa dopo 4 anni sarà pronto delle proprie Io ho aspettato questo tempo per essere più preciso Per essere più completo nel mio piccolo però di poter dire qualcosa Io ho aspettato questo tempo per essere più completo Per essere più completo